Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano codi a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda i lavori notturni, sulla direttissima della 1, nelle 4 notti di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7, in orario 21.06, sarà chiuso il tratto tra il Bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio, in direzione Roma. Contestualmente saranno chiusi gli svincoli di Badia e di Firenzuola in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!